Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi, purtroppo, dobbiamo affrontare un momento di riflessione e ricordo. Il mondo della televisione e dello spettacolo è stato recentemente scosso dalla perdita di una delle sue colonne portanti. Che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, soprattutto grazie al suo lavoro nella serie Amata e i Cessaroni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla sua compagna di vita, lasciando un vuoto incolmabile non solo tra i membri del cast ma in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Finora, i dettagli riguardanti le cause della sua scomparsa rimangono avvolti nel silenzio, con la famiglia che ha scelto di non divulgare ulteriori informazioni. Carlo Principini era noto per il suo ferreo impegno a mantenere la propria vita privata lontana dagli occhi del pubblico. Questa sua scelta di riservatezza, rispettata fino all'ultimo, ci ricorda quanto fosse importante per lui preservare un certo mistero sulle sue esperienze personali, lasciando che fosse il suo lavoro a parlare. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel cuore di Monica Avanzini, ma in tutti quelli che hanno ammirato il suo talento e la sua dedizione.